Sindaco, il 31 ottobre può essere una giornata importante per lei, ci sono le elezioni provinciali, quali sono le sensazioni di questi giorni? Per me ogni vittoria è, siccome candidarsi è servizio per gli altri, so che non dovrò più pensare a 7.000 abitanti ma bensì a 340.000 abitanti, anzi per me è una preoccupazione perché so come sta la provincia, come sta messa con le riforme a Brandelli e non è semplice. Io parto, sapete che non votano i cittadini dove sono più forti ma votano i consigli comunali più politicizzati e qui parto con un grip negativo perché se andiamo a fare la conta dei consiglieri di una tifoseria e i consiglieri di un'altra tifoseria, sono in svantaggio. Però credo che il mio progetto sia una piattaforma aperta alle esigenze del territorio e l'interesse che ho, l'ho detto come primo punto del mio piano programmatico di quello che voglio fare in provincia è quello di rideterminare una posizione centrale, non dico centrale, però di quello che era qualche anno fa della provincia di Teramo perché io l'ho detto è innegabile che la provincia di Teramo è diventata frazione della regione Abruzzo e di questo lo vediamo ogni giorno sui giornali. Si parla dell'Aquila, si parla di Pescara, di Chieti e di Teramo chi parla e qui l'ho detto non do neanche colpa a tutta la politica perché poi tutti gli attori rideterminano una posizione forte della provincia di Teramo. Perciò metterò in campo una task force con la politica, le parti sociali, le associazioni di categoria affinché Teramo torni a essere proprio il regista della regione Abruzzo. Una eventuale sua elezione poi non sarebbe incompatibile con il ruolo di sindaco, di notaresco? Eccoci, una bella domanda perché non avrei mai accettato se dovevo lasciare il mio paese che è una fase importante di riprogrammazione del nostro territorio, del nostro comune perché siamo in una fase di reindustrializzazione importante che determinerà dei flussi positivi più in futuro. Ecco, perciò sarò sindaco di notaresco e, con l'appoggio dei consiglieri comunali e dei sindaci, presidente della provincia.